Il circuito, poi c'è il Ferrari, il parco davanti, questi sono tutti i grandstand, tutti i box qua a destra e poi c'è la pista lì, no? A destra, vedi, c'è tutta la pista, sì, questa è la Formula 1, no? Il Formula 1, IAS Marina, il circone di IAS Marina. Allora, ci sediamo così, quando frena lui non ci facciamo male, grazie. Allora, all'interno ci sono tanti giochi, come vi ho spiegato, c'è il mod, videotempo libero, questo è il Flyass, anche fate questo davanti, che ci butta giù, questo è il Flyass, è il loop, è il loop più alto del mondo, 120 metri di altezza, guardate come questo davanti c'è, anche questo lo possiamo fare, ma dopo che abbiamo fatto la montagna russa, venite qua prima al pranzo. Se non fate la montagna russa, io vi lascio qui, eh? Anche l'età, sono lì che sono scritti, chi può fare, chi non può fare, bene? Io sto parlando per i giovani, fatela, io l'ho fatto una volta, non mai più, è la più veloce del mondo, questo ve lo garantisco, è la più veloce del mondo, una volta che siamo qua, fatela, però fatela prima di pranzo. Bene, questo vi consiglio, poi facciamo il pranzo, e fate questo anche il loop, molto bello, è interessante, poi ci sono altri, poi c'è il parco acquattico, cio pan,cio pan,cio Juan Questi sono gli scivoli del parco acquatico, si chiama Yass, il mondo di Yass, poi c'è Warners Brothers, uno di più che esiste solo qua, Warners Brothers sotto l'aria condizionata, chiuso diciamo, all'interno. O facciamo con queste montagne russe qua a destra, ci riscaldiamo con questo, poi facciamo una prova e andiamo con la montagna russa, questa va a 100 km all'ora, questa a destra, invece qua è la 300, ci riscaldiamo con questo, facciamo prova, poi possiamo prendere l'altra. Questa è 100, 120, 120 che fa più velocità, non è che fa 300, per i piccoli, questo è per i piccoli adesso. lo zaino possiamo lasciarlo qua, però dovete essere sicuri se ritornate con me, chi vuole prendere il taxi, me lo deve informare prima, io parto alle 5.15, si parli, 5.15, 5.15 ci partiamo, bene? adesso vi faccio vedere il punto di incontro, vi faccio vedere il punto di incontro, ascoltate, chi c'è c'è, chi non c'è ciao, va bene perché la nave partono stasera, allora io devo essere lì prima le 6, 5.15, alle 5.15, bene? 5.15 sarò lì all'uscita del parco di Ferrari, e vi faccio vedere il punto di incontro, chiaro, chiarissimo, ok, 5.15, the meeting point, I will show you now, at the exit of the Ferrari, 5.15, 5.15, we have to leave, because tonight the ship is moving, so 5.15 will be at the exit from the store of the Ferrari, I will show you now, we go with the ticket, there is a restaurant, there is a food court outside, if you go in and go out, you can go back in, they do the stamp in your arm so you can go back again, ok? Is it clear for everybody? Thank you very much. Thank you very much.